Ecco un animale straordinario, che passa spesso inosservato. Il bruco stronzo. A dispetto del nome, questo animaletto ha un carattere aperto e gioviale. Spesso scambiato per un escremento di cane, viene talvolta raccolto e gettato nei rifiuti per errore. Il bruco stronzo ha un senso dell'orientamento acutissimo, ma, essendo miope, sottovaluta i dislivelli. Questo animale è anche un incredibile arrampicatore. In un prato non attira l'attenzione, e i predatori di solito non mangiano escrementi. Il bruco stronzo, o stronzino di campagna, ha paura di una cosa sola. Per motivi inspiegabili, teme la carta igienica. Ed eccolo scomparire nel buco centrale della sua tana, perfettamente mimetizzata, a forma di... di... di culo... sì.